buongiorno siamo al test driver di questa mercedes classe b 170 allestimento sport benzina con distribuzione a catena molto robusto e idoneo per renderlo ecologico un impianto GPL la vettura ha percorso 118.764 chilometri accendiamo va a fare tutto il check e tutte le spiese sono regolarmente spiegate perfettamente allineata anche in trenata amanecivoli vediamo gli abballamenti dispensore di strumento bene un salto rinusuale una buona trenata anche i denti sono ottimi proviamo l'ultima marcia partendo dalla prima seconda terza quarta e quinta e quinta scalata molto bene scalata e i messi ben precisi frizione morbida andiamo a fare la marcia ok una frizione per sforzo molto bene anche la frizione ok qua abbiamo tutte e quattro i vidri elettrici ok essendo accessoriata anche i possedimenti elettrici migliori regolazione dei specchietti sinistro bene destro ok anche destro poi continuo di border nessun messaggio di guasto è tutto ok poi abbiamo radio abbiamo il volume la vostra città e la canzone che vi piacerebbe ascoltare cambio di stazione ok radio ok poi climatizzatore abbiamo il bizona elettronico ok ventilazione perfetto direi che è tutto perfettamente funzionante allestimento sport quindi alle parti satinate volante in pelle anche all'interno del cruscotto è satinato come le parti le rifine laterali e il pomello tutto in ottime condizioni questa in più a pelle totale perché risaliranno misto pelle questa infatti è molto buona e non è rovinata come tutte quante le parti del mesco pelle i giallo sono praticamente nuovi sembra non c'è mai salito nessuno anche il cielo è ottimo esternamente la carnice è ben lucente le linee perfettamente parallele Parallele, anche dei fari, i fari ben lucidi, non sono apacizzati, come vedete il cerchio 17 essendo la versione sport, non ci sono segni particolari, è stata tenuta molto bene, leggero segno da parcheggio anteriore destra, 7 e 1 anteriore destra, 7 posteriore destra, sono molto buone, 7 e 2 posteriore sinistra, 7 e 4 anteriore sinistra. Aprendo il vano motore confermo l'integrità della vettura, tutti attacchi originali, non ci sono riparazioni, le manomissioni di nessun genere, acqua ben pulita, valore di dimensioni, equilibrato, non ci sono fraturi, olio perfettamente pulito, libero di italiandi, a 96.000, infatti l'ultimo a 113, che l'ho solo fatto poco tempo fa. Confermo l'ottimo stato della vettura, perfettamente in linea con l'anno e il suo chilometraggio. Siamo al chilometraggio, con più di bordo, con più di 118,7. Siamo al chilometraggio, con più di 118,7. Grazie a tutti. Grazie a tutti.